Un PMA di secondo livello, cioè un EMT2, secondo la classificazione del WHO, è un ospedale che è in grado di accettare e trattare 100 pazienti al giorno, ha una capacità ricettiva quindi di ricovero di pazienti all'interno delle proprie strutture di 20 pazienti e ha una capacità chirurgica molto importante in quanto un tavolo operatorio è una struttura chirurgica che è in grado di lavorare H24 per pazienti di chirurgia generale, di chirurgia ortopedica, di chirurgia ginecologica e di chirurgia plastica. Inoltre il nostro ospedale dispone di una terapia intensiva, quindi di un cosiddetto ICU, con quattro posti letto di rianimazione con la possibilità di monitorizzare e quindi trattare anche di pazienti intubati. Grazie 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 Grazie